Buonasera e benvenuti alla Grimaldi Auto di Vigevano, sono Antonio, di fianco a me ho Claudio e Rocco, i nostri mitici commerciali e ovviamente la mitica Rosi, il nostro portafortuna alla nostra beniamina. Iniziamo subito questa televendita autunnale dicendovi tre informazioni fondamentali, oltre ovviamente alla carrellata di auto a prezzi eccezionali che sta per andare in onda. Innanzitutto dato il grandissimo successo proroghiamo anche per il mese di ottobre l'iniziativa Tasso Zero in collaborazione con Deutsche Bank Easy che diventerà quindi ottobre Tasso Zero con una particolarità. Abbiamo messo un altro po' di pepe o sale nella minestra. La prima rata del finanziamento a Tasso Zero sarà nel 2017, quindi diventa un Tasso Zero prima rata 2017. Seconda cosa, abbiamo uno stock incredibile di vetture Seat Kilometri Zero che sta arrivando, di cui a fine televendita vi daremo un piccolo assaggio. Sono tantissime vetture con dei prezzi incredibili, parliamo del 27% di scontro all'istino, di 9.000 euro di scontro all'istino. Non perdetevi questa anticipazione. E per ultimo, assolutamente ma non meno importante, non perdetevi la seconda parte dell'intervista con il dottor Aliverti di Deutsche Bank Easy, è la mitica Rosi ovviamente, che segue in coda la nostra televendita. Buona visione, buone automobili, buon divertimento. E questo mese d'ottobre inizia con uno stock di Polo 1200 TSI Comfortline aziendali del 2015 a 11.900 euro, parliamo del 31% di sconto da listino. Le abbiamo anche col Technology Pack a 12.400 oppure con cambio DSG e Technology Pack a 13.900 euro. Smart 4 4 Prime o Proxy, motore 70, sono vetture aziendali con navigatore, pelle e cerchi da 16, tetto panorama 10.400 euro. Una Leon ST col motore 2.184 cavalli, TDI, FR, cambio automatico DSG, vettura del 2016 con navigatore 18 e Xeno a 23.900 euro. Uno stock di Polo, però questa volta 1.4 TDI del 2016 semestrali, Technology Pack a 13.900 euro. Una Volkswagen Golf GTD 184 cavalli turbodiesel aziendale con 39.000 km a 26.500 euro. Audi A3 2000 turbodiesel S-Tronic aziendale spettacolare rossa col tetto nero di cristallo, sensori di parcheggio e navigatore a 19.900 euro. Volkswagen Up Move Up con cambio automatico ASG, clima e radio a 7.600 euro, ovvero il 44% di sconto da listino. Audi A3, abbiamo uno stock di 1.6 TDI S-Tronic aziendali 2015, tutti con navigatore Xeno LED Bluetooth interno in pelle a 23.900 euro. Volete il 2.000 turbodiesel, 150 cavalli sono meglio che 110? Benissimo, con pelle navi Xeno a 25.900 euro. Audi A4 Road 3000 TDI S-Tronic aziendale con 39.000 km, tetto, navigatore Bluetooth e sensori a soli 32.500 euro. Una Volkswagen Sharan 7 posti, 2.000 turbodiesel Comfort aziendale del 2015 con 28.000 km, clima bizzone e sensori davanti e posteriori a 24.900 euro, il 38% di sconto da listino. Audi Q3, 2.000 turbodiesel aziendale con solo 38.000 km a 23.900 euro. Audi Q3, 2.000 turbodiesel sempre aziendale ma questa volta 4 S-Tronic Edition, navigatore tetto panorama Xeno a 29.800 euro. Audi TT, 2.000 turbo, 4 S-Tronic Advanced Plus da 211 cavalli, con navigatore interno in pelle S-Line Xeno, per chi non deve chiedere mai, a 25.900 euro. Una Kia Soul 1.6 CRD con cambio automatico 7 marce, nel 2015 7.900 km, Xeno, Navi 18 e Sound System della Infiniti a 19.800 euro. Suzuki Swift 1.2 VWT B-Top del 2016 con 2.000 km, tetto, Navi, cerchi da 16 a 12.500 euro. Skoda Fabia 1.6 TD aziendali vari modelli a 8.900 euro, il prezzo qui è veramente imbattibile. Seat Ibiza 1.2 turbodiesel style aziendali vari modelli colori con cerchi lega radio a 9.800 euro. Audi Q5 aziendali vari modelli colori, 2.000 turbodiesel S-Tronic con Xeno e Navi a 31.900 euro e 3.000 turbodiesel Advanced Plus con tetto, Navi e Xeno a 34.900 euro. Audi A4 2.000 turbodiesel Avant 4 Edition, 177 cavalli con S-Line, navigatore 18 pollici e Xeno a 23.500 euro. Stock di Skoda Rapid Spaceback 1.6 turbodiesel Ambition Executive aziendali con vari colori, climatroniche, cerchi lega, comandi a volante e bluetooth a 11.900 euro. Uno stock di Octavia Vagon, di Skoda Octavia Vagon aziendali 1.6 Ambition con clima bizzorna cruise control e volante multifunzione a 14.400 euro. Oppure il modello 2.000 turbodiesel DSG con solo 4.000 km, abbiamo un pezzo particolare, navigatore Xeno 18 a 25.900 euro. Uno stock di Polo 1.2 turbodiesel aziendali con climatizzatore radio a 9.800 euro. E una Seat Leon ST 1.4 Tg, ovvero sia benzina metano, cambio automatico DSG del 2016 a 6.000 km allestimento Connect, tetto panorama, navigatore Xeno full LED telecamera a 24.500 euro. Uno stock di Volkswagen Golf 1.6 turbodiesel Comfortline Business Pack aziendali 2015 a 18.500 euro o col cambio automatico 19.900 euro. Passiamo alle Golf Variant, stesso allestimento Comfortline Business Pack 2015-16 diesel, 17.900 euro, ma abbiamo anche un 2.000 automatico High Line con Navi Xeno a 23.900 euro. Volkswagen Golf Sports van invece, 1.6 turbodiesel aziendali del 2015, stesso allestimento Business Pack con Bluetooth e sensori di parcheggio anteriori e posteriori, 17.900 euro, con cambio automatico 18.900 euro. Volkswagen Golf Cabrio 2.000 turbodiesel aziendale capote elettrica e climatronica a 17.500 euro. Audi A5 Sportback 3.000 turbodiesel 4S tronica aziendale con 45.000 km, navigatore Xeno LED pelle 18 pollici a 28.900 euro. Volkswagen Passat, l'ultimo modello, Variant 2.000 turbodiesel Business del 2015 aziendale, con navigatore e sensori di parcheggio anteriori e posteriori a 24.900 euro. Volkswagen Maggiolino Cabrio invece, 2.000 turbodiesel 150 cavalli Sport del 2015 aziendale, 22.900 euro. Audi A1 1.4 turbodiesel Sportback a chilometri zero, full optional, navigatore climatronica Bluetooth, 5 posti, cruise, sensori. La vettura costa 19.900 euro, 23% di sconto dal listino. Volkswagen Tiguan 2.000 turbodiesel 4Motion DSG Sport & Style con l'ultimo motore il 150 cavalli, navigatore 11.000 km percorsi a 26.900 euro. Volkswagen Touareg 3.000 turbodiesel Tiptronic con tetto panorama, pelle, navi, 25.900 euro. Jeep Renegade 1.6 multijet limited, chilometri zero con navi, climabizona, cruise, bluetooth e vetri privacy a 23.500 euro. Volkswagen Golf 1.6 turbodiesel Highline aziendale con i cerchi da 17 l'Alcantara a 18.900 euro. Disponibile anche una vettura con motore 2.000 turbodiesel a 16.900 euro. Audi A1 Sportback 1.6 turbodiesel 115 cavalli metal con xeno e pacchetto connettividi aziendali del 2015. Hanno anche i cerchioni in lega da 16 pollici a 19.400 euro. Viene un'iniziatura bicolore come potete vedere con cambio estetronico offertissima a 19.900 euro. Abbiamo due decappottabili con un prezzo veramente low cost, un SLK compressor e un Audi A4 Cabriolet 2005 turbodiesel multitronic. Sono vetture in eccellenti condizioni e venite a trovarci perché il prezzo vi sbalordirà. E veniamo adesso al piatto forte di questa trasmissione ed è uno stock importante di vetture SEAT KM0 tutte con 4 anni di garanzia. Vi diamo qualche esempio perché le vetture in realtà sono davvero moltissime. Abbiamo delle SEAT Leon ST, quindi Station Wagon, 1.6 turbodiesel style, vetture a chilometri zero di ottobre del 2016, navigatore, fare lo xeno con i led, 17 pollici cerchio in lega, SEAT Full Link, sensori luci pioggia, retrocamera, clima bizona. Stiamo parlando di 19.900 euro contro un listino di 28.986, quindi parliamo di 9.000 euro di sconto dal prezzo di listino. Cambiando invece genere andiamo sulla piccolina di casa SEAT l'Ibiza. Ibiza ST 1000 style, sempre chilometri zero con i cerchi legal, bluetooth, i led, i fendinebbia, i sensori di parcheggio posteriori, viene offerta a 11.500 euro contro un listino di 15.7, ovvero il 27% di sconto dal listino. L'offerta è vera e reale, le auto sono qui, venite a vederle. Torniamo su Leon, una Leon 5 porte invece questa volta, una 1.6 turbodiesel style, con i sensori di parcheggio posteriori, i vetri oscurati, i cerchi da 17, sempre i led interni, 17.900 euro al nostro prezzo con un 27% di sconto dal listino. Ovviamente anche su SEAT è possibile usufruire della campagna tasso zero, ottobre tasso zero con Easy Deutsche Bank, per cui non vi fate problemi, potete anche finanziare la vostra Leon con il finanziamento tasso zero. Chiudiamo questa prima carrellata di queste SEAT Km0 con l'Ibiza ST 1400 turbodiesel style, sempre vettura chilometri zero di ottobre, cerchi legal da 15 pollici, bluetooth, led, sensori posteriori, fendine, biaruotino, 12.900 euro, con uno sconto pensate di 5.300 euro dal prezzo di listino. Benissimo, passo adesso la linea al dottor Massimo Aliverti di Deutsche Bank Easy. Bene, ed eccoci arrivati a questo punto della trasmissione in compagnia dell'ospite di cui abbiamo parlato in inizio di trasmissione. Massimo Aliverti, che saluto, buonasera. Grazie, buonasera Rosi e grazie per l'invito che mi avete fatto. Perfetto, io la prima domanda che vorrei farle è questa. Quali caratteristiche rendono Deutsche Bank Easy uno dei principali player del settore? Siamo presenti nel settore da 50 anni, infatti quest'anno abbiamo festeggiato questo importante traguardo che speriamo di raddoppiare, anzi sicuramente, e nello stesso tempo facciamo parte di questo importante gruppo a livello internazionale. Siamo una società innovativa, dinamica, presenti sul mercato con offerte e servizi adeguati al momento e nello stesso tempo molto, molto competitivi. La nostra forza è data dalla forte collaborazione che abbiamo con le persone, i nostri colleghi e agenti presenti sul territorio, quindi questo ci permette poi di organizzare e strutturare dei servizi e delle offerte che sono assolutamente in linea con le necessità e attese della clientela. Infatti è il servizio quello che ci contraddistingue in questo mercato, assolutamente. Perfetto, allora provate naturalmente Deutsche Bank Easy per l'acquisto della vostra prossima auto. Grazie a Massimo Liverti. Grazie Rosy. E proseguiamo con le nostre auto, le nostre occasioni. Grazie mille per l'attenzione, vi ricordo Seat KM0 e TASSO0 Prima Lata 2017. Alla prossima, ciao ciao!